Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Negli ultimi tempi erano emerse indiscrezioni sulle tensioni tra Fedez e Chiara Ferragni riguardo al mantenimento dei figli Leone e Vittoria durante la separazione. I rumors parlavano di una richiesta troppo alta da parte di Chiara, prontamente rifiutata dal rapper, che avrebbe proposto una controfferta respinta dall'influencer. Così sembrava che Chiara avesse deciso di provvedere da sola al mantenimento dei figli. Il settimanale Oggi ha finalmente svelato le cifre concrete di questa vicenda. Secondo quanto riportato da oggi, Chiara avrebbe chiesto 20.000 euro al mio al mese per il mantenimento dei figli, mentre Fedez ne avrebbe proposti solo 5.000. Questa differenza avrebbe portato Chiara a rifiutare l'offerta e a decidere di occuparsi dei figli da sola. Non si sa ancora se queste cifre siano effettivamente vere o se i due abbiano trovato un accordo. Tuttavia, sembra che Leone e Vittoria resteranno con la madre, mentre Fedez potrà vederli seguendo gli schemi stabiliti dalla legge. Ma al di là della questione della separazione, sembra che Fedez abbia altro a cui pensare dopo l'arresto di 18 Ultra delle curve di Inter e Milan, tra cui il suo bodyguard. Da lunedì, infatti, il rapper è scomparso dai social, preoccupando i suoi fan abituati a vederlo attivo online. L'ultimo post risale a domenica, durante l'inaugurazione di una casa famiglia a Roma. Dopo alcune Instagram stories, Fedez è letteralmente sparito, forse a causa di questo momento delicato e degli impegni che lo attendono. I fan sperano che questa assenza non sia dovuta a problemi di salute e che il rapper possa tornare presto.